bene buonasera a tutti e benvenuti a questo seminario web durante il quale vi presenteremo delle opportunità molto interessanti che sono aperte da parte della regione marche della camera di commercio delle marche che si sono unite per fornire un primo aiuto sicuramente interessante per imprese che esportano intendono farlo che hanno prodotti o servizi prodotti dedicati a altre imprese e che sono in procinto di attivare dei progetti b to b quindi dedicati ad altre imprese non al consumatore finale diciamo che come cna siamo sempre molto attenti a questo tipo di opportunità fornite da regione marche e camera di commercio con le quali entrambe collaboriamo attivamente noi come cna siamo anche in grado di assistervi e vi spiegheremo poi dopo sia nel fornirvi le informazioni sia nella aiutarvi a descrivere il progetto ma soprattutto se può essere utile anche a condividere con voi progettualità e quindi riempire di contenuti idee che potreste avere solo abbozzate e quindi con il nostro aiuto con il nostro supporto alla nostra consulenza potreste essere in grado di come dire definire meglio l'idea progettuale e quindi arrivare in tempi brevissimi perché come vi diremo ora i tempi purtroppo sono piuttosto stretti quindi definire al meglio i vostri progetti e presentarli attraverso il modulo predisposto che vi presenteremo oggi quindi vi ringrazio per la partecipazione vedo che siamo tantissimi siamo quasi 100 partecipanti qui a fianco a me vedete i volti del dottor giorgio tomassone che è dirigente della camera di commercio delle marche e in collegamento con noi dalla sede di pesaro che ringrazio naturalmente per la disponibilità ad essere qui con noi questa sera e poi a fianco la dottoressa katia badaloni che è consulente esperta in internazionalizzazione che opera dalla sede cna di iesi e che opera appunto nell'ambito del progetto del servizio export box per la società cna tecnopoliti benissimo io direi senza indugiare oltre i tempi che ci vogliamo dare sono i seguenti 20 minuti circa presentazione del bando eventuali domande 20 minuti circa presentazione da parte della collega badaloni di altre informazioni contenuti che noi abbiamo ritenuto utili condividere con voi ed eventuali domande il tutto per concludere verso le 18 18 15 al massimo benissimo direi che posso dare direttamente la parola al dottor tomassone che ringrazio ancora sì buonasera a tutti grazie per l'invito io adesso vi parlo dalla dalla camera delle marche dalla sede di pesaro io sono qui responsabile dell'area promozione della sede di pesaro e sono qui appunto per illustrare quello che è il bando che è stato appena deliberato dalla camera di commercio delle marche e che è appunto denominato b2b digital markets quindi questo è un bando che si rivolge a tutte le imprese della regione marche e che si rivolge alle imprese che vogliono affrontare che vogliono incontrare i mercati digitali abbiamo usato qui già nel 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 titolo una definizione abbastanza generale di mercati digitali cioè abbiamo voluto far capire che noi ci rivolgiamo a quelli che possono essere marketplace e commerce fiere digitali ma poiché è sempre difficile definire in maniera chiara quello che quello che concettualmente può essere chiaro poi magari tecnicamente può essere più difficile quindi abbiamo usato questo termine digitale per far capire che noi ci rivolgiamo alle imprese che vogliono affrontare questi nuovi mercati cioè fino ad oggi noi adesso abbiamo da poco chiuso il bando relativo alle fiere alle fiere in presenza queste che si sono tenute nel primo trimestre perché diciamo anche a seguito dell'emergenza covid le fiere in presenza praticamente sono state bloccate però diciamo pure che per il primo trimestre in realtà si sono si sono tenute e la camera di commercio proprio a queste si è rivolta per erogare questo contributo per le fiere in presenza naturalmente questa emergenza epidemiologica ha accelerato l'orientamento ha accelerato e anche potenziato l'orientamento della camera di commercio verso il mercato digitale e più in generale verso la digitalizzazione delle imprese cosa che la camera di commercio da anni segue in questo caso il bando come già stato anticipato è un bando che viene anche erogato alla camera commercio ma è cofinanziato anche dalla regione marche in totale sono resi disponibili un milione e 200 mila euro per quindi adesso nel bando queste sono praticamente le finalità abbiamo scritto cioè avvicinare le imprese al mercato digitale e nell'articolo 2 riportiamo invece quelli che sono i soggetti beneficiari e quali sono i requisiti per l'ammissione a questo bando allora naturalmente sono ammesse tutte le imprese che hanno sede nella regione marche devono avere la sede locale oppure anche l'unità locale quindi tutte quelle che sono iscritte presso il registro imprese della regione marche devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale e naturalmente tutti questi requisiti sono come abbiamo scritto nel bando anche delle clausole di esclusione insomma se non sono rispettate siamo costretti diciamo così a rigettare la domanda anche se ad esempio nel caso del diritto annuale noi invitiamo possiamo invitare l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro dieci giorni generalmente questo accade a volte quando il diritto annuale è anche irregolare per pochi euro e noi invitiamo in questo senso le imprese a regolarizzarsi poi naturalmente non devono essere sottoposte a procedure concorsuali devono essere in regola con gli obblighi contributivi quindi in questo caso controlleremo il durc quindi anzi come abbiamo scritto qui si consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda è una procedura molto semplice che possono fare le imprese che possono fare anche le associazioni prima di presentare le domande per conto delle imprese e quindi verificare se l'impresa è a una posizione con corretta nei confronti del durco perché altrimenti anche in questo caso siamo costretti a rigettare la domanda e poi infine ultima condizione anche non devono avere in corso contratti di fornitura con la camera di commercio insomma in questo momento non devono avere diciamo così rapporti contrattuali con la camera di commercio sono contributi questi concessi il regime di minimis il che significa che il contributo può essere concesso come sapete il contributo alle imprese regime di minimis fino ad un tetto massimo di 200 mila euro quindi l'impresa deve sapere che adesso non ce ne sono sempre tante però ci sono imprese che riescono a ottenere numerosi contributi e quindi devono verificare anche quale prima di fare la domanda possono verificare quella che è la propria posizione nei confronti del di minimis e quindi occorre fare in modo che questo contributo stia al di sotto dei 200 mila euro quindi è importante anche in questo caso che ci sia un controllo da parte delle imprese prima di presentare la domanda se andiamo all'articolo 3 noi invece abbiamo elencato quelle che sono le spese ammesse a contributo quindi sono ammesse le spese per l'avvio della presenza e permanenza sulle seguenti piattaforme digitali e le spese per le attività di seguito elencate cioè praticamente diciamo qui che abbiamo usato questi due termini avvio della presenza e permanenza che significa sia le imprese e andranno ad iscriversi per la prima volta sui mercati digitali sia le imprese che permangono cioè che sono già iscritte e che magari pagano un contratto di affitto per la permanenza su queste su queste piattaforme quello che è importante sottolineare e l'abbiamo messo anche nel titolo è che qui anche se parliamo di mercati digitali in generale sono comunque piattaforme che si rivolgono al b2b cioè agli operatori economici non sono piattaforme che di tipo b2c cioè che si rivolgono al consumatore finale quindi è questo molto importante perché noi andremo a verificare appunto che il mercato sia effettivamente b2b il fatto che sia un mercato per operatori questo dovrà anche figurare poi dei documenti successivi che anche come ad esempio dai contratti sia di iscrizione alla piattaforma sia di affitto deve risultare il termine b2b si deve capire che si rivolge a questo tipo di mercato e anche nelle fatture fate sempre in modo che per quanto possibile sia sia citata questa definizione affinché si possa capire che se ci si rivolge ad un mercato b2b che sono spese per questo tipo di mercato poi se andiamo a vedere anche qui ci sono tutti sono elencate tutti i vari tipi di spese che si possono sostenere quindi come ho già detto canone per prima iscrizione che permanenza sia per il software che per la piattaforma creazione condivisione di un catalogo di prodotti con clienti distributori cano iscrizione permanenza per piattaforme web per la gestione di spazi di showroom virtuali quindi anche qui ad esempio anche per tipo fiere digitali così via creazione e implementazione sistemi integrati per la raccolta ordine perché appunto anche queste piattaforme dovrebbero avere con le possono avere collegati anche dei programmi per la gestione degli ordini per la gestione anche dei rapporti con i propri clienti insomma occorre che anche tutti quei programmi tutti quei software che sono collegati alla alla piattaforma devono naturalmente risultare e deve essere chiaro che ci sia un collegamento devono essere diciamo preposti al alla piattaforma poi ci sono altre altre caratteristiche altre spese tipo modellazione 3d e non di prodotti e spazi espositivi configuratori 3d e non di prodotto cioè e non vuol dire anche diciamo 2d insomma dei configuratori cioè qui si intende dei software che vi permettono di di creare gli ambienti che potranno essere visitati degli ambienti virtuali che potranno essere visitati dagli operatori che confluiranno sul mercato creazione e implementazione di sistemi di realtà aumentate di realtà virtuali canone per la prima iscrizione permanenza piattaforme multi azienda quindi come vedete abbiamo sempre scritto canoni di prima iscrizione e permanenza per vari casi insomma perché ci rivolgiamo a diversi mercati integrazione con erp e crm anche qui appunto sono programmi di sistemi informativi aziendali che se sono acquistati rientrano appunto tra le spese ammissibili creazione implementazione sistemi per la condivisione sicura di nuove collezioni sistemi tracciabilità dell'interazione servizi fotografici video shooting anche qui servizi di fotografie che naturalmente saranno necessarie per il vostro per il vostro sito per la vostra piattaforma anche queste sono spese che possono rientrare spese per le foto e anche spese per il video naturalmente anche questi servizi fotografici video che saranno qui dovranno poi cioè si dovrà anche dimostrare che siano stati fatti nel senso che noi quando vi chiederemo il modello finale ci sarà la urla diciamo il sito internet con la home page a cui vi siete iscritti e anche delle pagine web da cui noi possiamo visualizzare se effettivamente avete riportato delle foto i video eccetera ecco si chiede per quanto possibile di dimostrare tutto quello che è stato realizzato per i canoni periodici di permanenza sulla piattaforma e l'affitto dell'hardware e software sarà calcolata la quota di spesa dal primo giugno al 30 novembre debitamente quitanzata quindi anche qui per quanto riguarda mentre le spese di iscrizione tutte le spese che sosterrete come ad esempio per il software e l'hardware devono essere spese che sono sostenute dal primo giugno al 30 di novembre i canoni invece potranno i canoni di affitto di locazione sia del materiale sia degli abbonamenti ai siti potranno invece essere stati sostenuti anche diciamo così in periodi precedenti però naturalmente quindi se l'affitto è annuale che partiva dal primo gennaio noi calcoleremo il ratio il periodo di competenza che va dal primo giugno al 30 di novembre dunque non sono ammesse spese per piattaforme digitali B2C quindi insomma dovete fare in modo ecco quindi no dovete si rivolgiamo ai mercati B2B qui è stata una scelta precisa dell'organo camerale e quindi questo insomma bisognerà fare molta attenzione a non confondere le due categorie per quanto riguarda poi l'articolo poi abbiamo scritto anche qui non sono ammesse spese per piattaforme digitali B2B e per costi pubblicitari come ad esempio social media marketing e search engine optimization anche qui no vabbè questi sono per motori di ricerca eccetera per potersi aumentare la capacità di farsi vedere dell'impresa anche in questo caso non sono state ritenute come spese ammissibili quindi queste non potranno essere inserite nel modulo di domanda allora vediamo un po anche andiamo avanti le spese naturalmente devono essere sempre al netto dell'iva infatti anche nel primo modello vi chiederemo di separare le due spese ogni impresa potrà presentare una sola domanda le domande saranno al netto di iva e con data compresa le fatture dovranno avere data compresa tra il primo giugno e il 30 di novembre le spese per l'acquisto all'affitto dispositivi hardware non potrà superare il 50 per cento delle spese totali fatturate equitanzate quindi abbiamo previsto anche la spesa per dispositivi hardware e qui già vi dico che per hardware escludiamo i telefoni cellulari ed escludiamo ad esempio i materiali di consumo tipo il toner tipo toner e queste spese comunque non devono essere superare il 50 per cento delle spese totali quindi le altre spese dovranno essere destinate o al software o a delle spese che magari sosterrete per i tecnici non non per spese di consulenza spese per la realizzazione concreta della delle delle piattaforme diciamo no quando voi chiamerete il tecnico che vi dovrà costruire la piattaforma sul vostro sul vostro computer dunque le spese ammissibili nel complesso debitamente documentate liquidate dovranno essere pari ad almeno 2.000 euro complessivi quindi dovrete sostenere almeno 2.000 euro di spese e in questo caso nel caso in cui ad esempio sostenete 2.000 euro di spese avrete un contributo pari a 1.000 euro cioè al 50 per cento il contributo infatti sarà pari al 50 per cento delle spese ammissibili quei tanzate fino ad un massimo di 7.000 euro quindi potrete spendere anche 14.000 euro e in quel caso avreste un contributo di 7.000 euro le fatture naturalmente devono essere tutte quei tanzate cioè quando si parla di spese ammissibili non si fa riferimento alla fattura in sé al netto della fattura ma si fa riferimento alla fattura qui tanzata quindi dovrete dimostrare questo qui in fase di rendicontazione con il modello b che la fattura è stata qui tanzata è stata pagata per intero le fatture e sempre molto importanti che siano parlanti come si usa dire ad esempio per gli scrontrini cioè nella fattura non ci deve essere scritto che è stato riportato il prodotto x y z numero il codice eccetera ma ci deve essere scritto che si tratta software per per ordinativi relativi alla piattaforma b2b ecco questo qui è importante che ci sia scritto quindi lo sapete prima e quindi lo potete far scrivere quindi queste sono nella fattura quando invece farete la quietanza perché per la quietanza siccome sapete che anche in base alle ultime disposizioni governative si fa sempre più riferimento a pagamenti tracciabili dovremo orientarci sempre di più verso pagamenti tracciabili e quindi in questo caso occorre che le spese ce le dovrete appunto qui pensare dobbiamo dovrete dimostrare le spese qui pensate con gli estratti conto quindi dovrete riportare l'estratto conto e dall'estratto conto ci dovrà essere quella che è la causale del pagamento e quindi alla causale lì cercate di essere chiari quindi indicate la fattura numero del quindi nella causale scriveteci qual è il numero della fattura in modo che noi vediamo prima la fattura con il numero del e la fattura deve essere parlante deve descrivere bene qual è il prodotto che avete descritto e poi sul sull'estratto conto si deve vedere qual è il pagamento a quale fattura si riferisce naturalmente anche il contributo a ecco c'è poi questa nota qui richiedente avrà diritto ad un ulteriore contributo aggiuntivo di mille euro quale ora tutte le fatture presentate quetanziate questo qui diciamo è stato un bonus finale aggiuntivo che pensiamo che non sia facile da 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 ottenere però diciamo che già il contributo di 7 mila euro in contributo molto alto insomma comunque come camera appunto si è pensato anche di aggiungere questo contributo pari a mille euro qualora tutte le fatture facciano riferimento ad imprese che sono che hanno la sede legale nella regione marche che quindi a registra imprese risultano nella regione marche quindi sia il software che l'hardware che l'iscrizione alla piattaforma tutto quanto chi emette la fattura il cedente deve essere un'impresa che ha sede legale nella regione marche è difficile ma questo diciamo è stato un bonus aggiuntivo che quindi insomma non poteva essere facili diciamo ecco dunque modalità di presentazione della della domanda il contributo va il contributo il bando il bando potete leggere tutte le informazioni che tra l'altro è quello che adesso state vedendo già online è scaricabile dal sito della regione marche comunque potete andare anche nei siti delle camere di commercio provinciali e li potete scaricare il bando oltre ai modelli che vi servono per presentare la domanda intanto cominciamo dal modello anche il primo che dovete presentare la domanda va presentata con la pec con la pec della camera di commercio che è citata nel bando per estesa e le domande vanno presentate dal primo giugno al 10 luglio del 2020 le domande vanno presentate verranno registrate da noi in ordine cronologico sulla base della data dell'ora di arrivo e siccome parte dal primo giugno come in questi casi a volte ci chiede ci hanno chiesto insomma qual è l'orario l'orario è che la data e l'ora di arrivo quella che registriamo noi non quella di partenza quando parte dal vostro compito deve essere quella del primo giugno quindi si parte dalle 00 00 01 secondo ecco deve essere il primo secondo della del primo giugno 2020 no lo dico perché a volte qualcuno cerca di spedirla di spedirla diciamo così l'ultimo giorno in questo caso per dire il 31 maggio lo spedisce alla sera pochi secondi prima che scada la mezzanotte poi magari quando ci arriva noi è ancora il 31 di maggio in quel caso non la possiamo ammettere dove deve essere diciamo deve per forza arrivare in data prima giugno nel primo secondo almeno del primo giugno dunque anche qui diciamo il modello a e dovete presentare il modello a ed è importante che al modello a cosa che non abbiamo che abbiamo scritto nelle fac perché vi abbiamo aggiunto anche le fac ci deve essere collegato il modello dei minimis invece di chiedervelo in seconda battuta ve lo abbiamo deciso di chiederlo già in prima battuta perché questo ci serve e anche nell'interesse dell'impresa dimostrare appunto che con il modello dei minimi possiamo verificare subito che si trova al di sotto dei 200 mila euro quindi chiediamo a differenza di quanto scritto qui appunto che sia spedito sin dall'inizio così è un controllo che possiamo fare sin dall'inizio naturalmente poi dopo non sarà chiesto in fase di ricontazione quindi non c'è un aggravio maggiore dal da parte dell'impresa e diciamo naturalmente noi entro entro l'undici di settembre sarà pubblicata la gradatoria la gradatoria fino naturalmente siamo costretti a fare così perché noi destiniamo un plafond un fondo di un milione e duecentomila euro che naturalmente possiamo spendere fino ad esaurimento ecco non ci si può impegnare oltre diciamo e quindi le domande noi entro l'undici settembre esporremo la gradatoria in cui ciascuno di voi potrà vedere se appunto è stato ammesso al bando in questione dopodiché qui insomma andiamo avanti voi lo potrete vedere qui dal sito della camera di commercio tra l'altro come dico adesso per il momento fate riferimento ai singoli ai singoli siti provinciali stiamo come camera regionale voi sapete che la camera delle marche è il frutto dell'accorpamento di cinque camere provinciali ed è insomma per il momento stiamo quasi siamo in quasi in dirittura d'arrivo per la creazione del nostro sito regionale quindi probabilmente per quella data riuscirete a vedere addirittura il risultato sul sito regionale comunque entro l'undici settembre sarà pubblicato il bando relativo alla prima fase con le imprese che sono ammesse dopodiché le imprese che sono state ammesse sanno che in caso di accoglimento della domanda i beneficiari dovranno presentare il modello BRI il modello B sempre sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa entro la data del 30 novembre il modello B diciamo è il modello finale dove voi dovete dovrete rendicontare tutte le vostre spese comunque diciamo adesso non so se poi adesso prima di arrivare a quello anche io un attimo solo sul modello A se ci vogliamo ritornare un attimo quindi diciamo che la procedura si chiude in questo modo con il modello B quando nel modello B voi dovrete anche elencare il vostro IBAN e chi avrà risposto correttamente a tutte le nostre richieste naturalmente potrà beneficiare del contributo che sarà versato direttamente sul vostro conto corrente sull'IBAN che indicherete nella domanda se possiamo tornare appunto al modello A che è rappresentato in questo momento qui nella prima pagina voi dovete riportare tutte le parti abbastanza semplici dovete riportare tutte le parti anagrafiche relative alla vostra impresa mentre diciamo nella seconda pagina c'è qui c'è questo riquadro in cui diciamo il riconoscimento di un contributo per le spese previste dal BAN in oggetto per la realizzazione del seguente progetto per una piattaforma B2B quindi è chiaro il concetto si tratta di una B2B è importante che qui sia realizzato l'obiettivo del progetto l'obiettivo principale del progetto e qui dovete anche cercare di far capire bene quello che è il progetto che voi dovete realizzare non solo gli obiettivi di carattere generale quindi di conquistare nuovi mercati ad esempio se si tratta solo di un mercato preciso che magari potrebbe essere di qualche nazione o in un mercato europeo oppure non so anche solo un mercato nazionale però magari, cioè no magari soprattutto dovete anche scrivere quello che voi andrete a realizzare concretamente nella vostra azienda quali sono gli acquisti che farete di software quali sono, qual è il personale che utilizzerete a cui chiederete delle prestazioni ai vostri, ai tecnici eccetera e dovrà tutto essere indicato chiaramente poi nelle FAQ noi abbiamo cercato di spiegare il più possibile quello che insomma come deve essere descritto questo modello insomma cercando di essere il più precisi possibile ecco e per quanto poi andando avanti sempre nel modello diciamo oltre a questa pagina in cui dovete descrivere in maniera chiara e precisa quello che intendete il progetto che intendete realizzare c'è una seconda tabella in cui dovete riportare il tempologia di spesa prevista come abbiamo detto qui nel modello A va allegato anche se non c'è scritto il modello de minimis però ecco non dovete allegare i preventivi nel senso che voi naturalmente vi rivolgerete ai vostri fornitori e chiederete quanto posso spendere per diciamo la realizzazione di questa ad esempio di un e-commerce proprietario oppure per aderire ad una piattaforma o quanto spendo per l'acquisto di questo software oppure quanto spendo per l'acquisto dell'hardware e voi lo riportate qui in questo prospetto dove io dove abbiamo distinto sia l'importo netto che l'iva prevista come ho detto conta soltanto l'importo netto però insomma qui abbiamo fatto mettere anche l'iva prevista perché affinché siamo sicuri insomma che si iscriva effettivamente l'importo netto questo progetto questo prospetto naturalmente dovrà essere collegato bene con con il prospetto precedente e quindi nel prospetto precedente dove scrivete il progetto quindi noi dobbiamo acquistare questi software eccetera che ci serviranno a realizzare queste attività e nell'altro prospetto nel secondo descriverete meglio qual è la spesa prevista quindi software ad esempio per gli ordinativi e ci mettete di fianco l'importo netto previsto e il totale generale che sarà il totale che noi considereremo i fini del contributo che appunto è pari al 50% come vedete sotto c'è anche questo riquadro dove voi dovete scrivere scrivere dovete indicare con una crocetta se pensate di utilizzare esclusivamente fornitori regionali fornitori appunto consigli euro in più come bonus perché avete utilizzato esclusivamente fornitori regionali sappiamo se invece pensate che vi rivolgerete anche perché magari vi iscriverete ad una piattaforma straniera oppure avete già delle software house che vi aiutano che collaborano con voi che sono già di altre regioni quindi sapete allora non mettete la crocetta naturalmente se qui non la mettete la crocetta poi non la potete mettere solo nel modello B perché se la mettete nel modello B ma voi non l'avete messa nel modello A noi non potremo riconoscervi questa spesa aggiuntiva questo contributo aggiuntivo questo perché perché tutte le spese che voi riporterete nel modello A sono quelle impegnate e sono quelle che noi vi potremo dare cioè se voi qui sotto nel totale generale scrivete che sosterrete spese per 10.000 euro noi scriveremo appunto nella gradatoria che voi avete diritto a 5.000 euro naturalmente noi potremo darvi fino a 5.000 euro quindi anche se in fase di rendicontazione ci direte che avete speso di più cioè che invece di 10.000 euro ne avete spesi 12 noi non potremmo darvi 6.000 ma potremmo darvi solo i 5.000 che avevamo preventivato sin dall'inizio possiamo però ridurre l'importo del contributo perché se voi qui in fase di preventivo dite che prevedete di spendere 10.000 e poi invece la spesa si andrà a ridurre naturalmente non è facile sempre preventivato se la spesa si andrà a ridurre allora in quel caso noi a consultivo dovremmo ridurvi anche il contributo cioè se se la spesa da 10.000 diventa 8.000 anche il contributo sarà ridotto da 5.000 a 4.000 ecco queste sono più o meno le caratteristiche del bando io adesso dopo il resto degli articoli diciamo non sono tutte cose più più formali io penso di avere concluso adesso mi sembra che non ci sia altro da aggiungere poi naturalmente anche nei prossimi giorni saremo qui a disposizione e cercheremo comunque sia naturalmente questi bandi che vengono fatti sempre nell'interesse dell'impresa anche dietro suggerimento delle associazioni di categoria appunto che siedono negli organi della Camera di Commercio quindi io penso di aver concluso e di non dover raggiungere altro nei prossimi giorni anzi no nei prossimi giorni già da oggi abbiamo diffuso oltre che il bando sulla base dei quesiti che ci sono pervenuti anche delle facche delle ulteriori risposte per approfondire eventuali chiarimenti o cose che non erano che non erano risultati io penso di aver concluso io spero di essere di essere stato chiaro se insomma volete fare qualche domanda insomma adesso ci siamo ecco il momento benissimo ringraziamo tantissimo quindi il dottor Tomassoni del suo intervento della sua precisione di come ha illustrato nel dettaglio allo stesso tempo con parole estremamente semplici il bando mi dicono che ci sono delle domande che sono arrivate nella chat nel frattempo quindi passerei la parola alla collega Katia Badaloni che dovrebbe averle sistemate in un foglio word in modo che possiamo poi condividerle con tutti voi e quindi chiederei di nuovo a lei dottor Tomassoni di rispondere grazie sì cerco di condividere lo schermo per farvi vedere le domande che sono arrivate allora riuscite a vedere? sì sì Katia dunque il DURC terrà conto delle proroghe dovute al covid-19 allora per quanto riguarda il DURC noi terremo conto delle proroghe sulla base di quello che sono previste dalla legge come abbiamo fatto e come faremo per quanto riguarda il bando fiere che abbiamo appena concluso adesso non ricordo esattamente quali sono le date ma c'è stata effettivamente una proroga della del DURC però qui naturalmente nel caso in cui sia irregolare cioè irregolare significa che ci sia un debito dell'impresa allora in quel caso noi siamo costretti a rigettare la domanda ecco almeno questa insomma è la nostra posizione la proroga del DURC sono quelle previste dalla legge e che sono riportate la data c'è infatti nel sito dell'Inps facendo la visura si vede benissimo qual è la data e sono queste insomma le date che noi dovremmo tenere in considerazione ci dovremmo adeguare insomma a quello che ci dispone l'Inps insomma l'Inps e l'Inel le neo imprese sono incluse ho aperto la partita IVA un mese fa dunque qui dunque risultano iscritti attive allora i requisiti devono essere in possesso dell'impresa dal momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo del bando questa è una regola e quindi in questo caso le neo imprese se sono adesso se risultano regolarmente iscritte alla camera di commercio se la ditta ha aperto un mese fa ed è già iscritta al registro imprese perché questo qui l'importante è che sia iscritta e attiva al registro delle imprese allora in questo modo insomma può rientrare quindi neo imprese diciamo l'importante è che sia non c'è un limite di tempo o altro l'importante è che sia iscritta e attiva al registro delle imprese già a partire dal momento in cui fa la domanda poi il giornalista non ho partita IVA ma voglio ampliare la capacità informativa del mio blog facendo anche un sito web e rafforzando la capacità informativa ecco perché dunque qui domanda il giornale ecco iscritto non ho partita IVA dunque bisogna vedere sempre ecco più che la partita IVA qui occorre vedere se è iscritto adesso io non so se è possibile per chi non è iscritto per chi ha la partita IVA e non è iscritto al registro cioè e non essere iscritto al registro in presa comunque credo che sia possibile però diciamo che la condizione essenziale per noi è che sia iscritto al registro in presa quindi deve essere un'impresa e deve essere attiva quindi adesso qui non lo ha scritto quindi presumo che non sia iscritto e quindi in teoria insomma non potrebbe partecipare ecco adesso io però naturalmente con questo noi non neghiamo mai di presentare la domanda la domanda può essere sempre presentata e naturalmente poi sarà controllata meglio sarà anche sottoposta poi al dirigente insomma possiamo vedere adesso non è che io posso dare una risposta definitiva però diciamo che la condizione essenziale è che sia iscritta è attiva il registro in presa non so se è lì presente se lui sa si è iscritta il registro in presa perché quella è la condizione essenziale poi domande relative a categorie può fare un esempio di piattaforma è pubblica o fatta per l'impresa poi sono e-commerce dunque può fare un esempio di piattaforma è pubblica o fatta per l'impresa cioè cosa vuol dire pubblica queste sono piattaforme private di solito cioè non non riesco a capire la domanda piattaforma intendo o marketplace ad esempio adesso ce ne sono molte conosciute che sono tipo quelle adesso io ho fatto ho guardato su internet eccetera ce ne sono sia di fiere digitali rivolte proprio agli operatori oppure anche di marketplace rivolti solo agli operatori oppure ci sono quelle famose che conosciamo tutti che sono tipo amazon però quella lì non andrebbe bene l'iscrizione nel senso che quella è rivolta ai consumatori finali però io so che all'interno ci sono delle sezioni rivolte e in quel caso sarebbe la domanda sarebbe abissibile quando invece rientra nella sessione B2B insomma quindi il fatto del pubblico adesso non capisco cosa vuol dire è pubblica o fatto per l'impresa comunque la mia risposta adesso per il momento è questa può essere un e-commerce per un'azienda del settore plastico conto terzista sì cioè un e-commerce adesso è qualsiasi impresa iscritta al registro di imprese se costruisce un e-commerce che l'e-commerce come sappiamo è anche un po' più impegnativo che iscriversi in una piattaforma perché magari in piattaforma si spende di meno l'e-commerce invece può richiedere una spesa iniziale poi anche una gestione più difficile perché insomma deve essere seguito più attentamente eccetera richiede insomma una struttura diciamo informatica più complessa comunque per un'azienda del settore plastico corto terzista non sono esclusi i settori quindi la domanda cioè il band è rivolto a tutte le imprese ma tanto anche se del settore plastico non c'è nessun problema ecco domande relative all'ammontare dell'investimento di quanto la spesa finale dichiarata del modello B può essere minore cioè può essere sì può essere minore l'importante che non scenda al di sotto dei 2000 euro perché noi abbiamo detto cioè è ovvio che se uno spende solo 1000 euro così non sono sufficienti noi chiediamo che siano spese che le spese ammissibili siano almeno pari a 2000 euro e in quel caso diamo un contributo di 1000 euro naturalmente devono essere non è che uno dice io 1000 euro ci compro un programma no deve essere una spesa che permetta di inserirsi in una piattaforma B2B e anzi ecco questo aggiungo questo che può essere che altrettanto importanti noi infatti chiediamo i contratti cioè oltre alle fatture nel modello di rendicontazione B devono essere allegati oltre agli indirizzi internet che l'avevo accennato prima e anche quelle che sono le pagine dove le pagine web dove compaiono i prodotti le fatture e anche le relative equitanze ma soprattutto ecco devono essere riportati i contratti di prima iscrizione o di permanenza e soprattutto nei contratti andremo a vedere di che tipo di contratto si tratta quindi insomma tutte le fatture eccetera è ovvio devono essere collegate al B2B ma soprattutto noi andiamo a vedere anche il contratto che effettivamente questa impresa abbia stipulato un accordo un contratto per avere questi tipi di o anche per l'e-commerce insomma che lo abbia effettivamente realizzato quindi noi lo possiamo anche vedere sia dai contratti che dai siti internet a cui fa riferimento diciamo così quella che chiamiamo anche piattaforma che sostanzialmente è un sito ecco quindi la spesa può essere minore deve essere almeno di 2.000 euro ecco quindi anche se nel modello B la spesa è più bassa naturalmente però insomma non devi scendere sotto i 2.000 euro quella è la condizione minima non so ci sono se ci sono altre domande anche questo qui del contratto in effetti sì era una cosa importante quindi ecco poi è importante che tutte anche ecco questa è importante che tutte le parti dei come si dice delle domande siano compilate soprattutto nel modello di domanda la parte in bianco qui relativa al processo al progetto deve essere compilata bene cioè devono essere riempite qui queste queste pagine ecco altrimenti insomma siamo costretti a chiedere integrazioni poi se uno non chiede integrazione c'è anche una domanda incompleta quindi anche lì dopo dovremo decidere insomma come comportarsi ma insomma ecco queste sono bellissimo per ora la ringrazio dottor Tomassone io ho ricevuto anche un'altra domanda che mi è stata segnalata su whatsapp che non so per qualche motivo forse non è arrivata lì sulla chat c'è un'impresa che sostanzialmente eroga servizi e mi chiede se è possibile realizzare un catalogo di servizi e non di prodotti poi approfitto che ho la parola per segnalare che siccome faceva riferimento al lavoro che stanno facendo anche le sedi provinciali della Camera di Commercio che già sul sito della Camera di Commercio di Ancona è possibile trovare in un link dubbi sul bando B2B ecco fac quindi ci sono delle fac pubblicate anche nella sede nel sito della Camera di Commercio sede di Ancona se può essere utile alla alla discussione dovrebbe essere tra l'altro quello di cui ho parlato prima che abbiamo poi quindi catalogo di servizi sì diciamo che l'impresa adesso come abbiamo detto possono partecipare le imprese di tutti i settori se è un'impresa di servizi adesso l'importante è che l'impresa anche se fa questo catalogo di servizi insomma dovrà dimostrare la spesa e soprattutto dovrà dimostrare che questo catalogo sarà inserito in una piattaforma quindi ci vuole sempre il contratto con cui l'azienda ha aderito a quella piattaforma e naturalmente le spese che ha sostenuto per questo catalogo di servizi quindi insomma i servizi sono come sono sostanzialmente prodotti e dovrà semplicemente diciamo così dimostrarlo con il contratto con il contratto che fa vedere che appartiene oppure se all'e-commerce deve far vedere quindi noi abbiamo quando nel modello B riporterà la URL e quelle che sono anche le pagine in cui sono sono riportati questi servizi noi dovremmo vederli insomma ecco quindi certo è possibile insomma il catalogo di servizi benissimo che sia una spesa documentata e che ricada nella piattaforma B2B ecco e se la mi chiedono ancora e se la piattaforma fosse già di proprietà cioè quindi è possibile finanziare la creazione di un catalogo di servizi da inserire in una piattaforma già di proprietà sì è possibile naturalmente bisogna dimostrare che la piattaforma già di proprietà ci dovrà essere ad esempio il contratto di iscrizione o il contratto con cui è nata questa piattaforma oppure l'esistenza stessa della piattaforma e dovrà essere dimostrata appunto che la piattaforma è di sua proprietà dell'azienda insomma ecco in questi casi insomma in effetti sì potremmo vedere anche non so se c'è il dunque quando non so se c'è possiamo vedere in quel caso ad esempio non so il contratto di offitto all'host cioè al provider su cui è appoggiata l'impresa e vedere se insomma effettivamente esiste il sito e qual è il catalogo che ha realizzato perfetto la ringrazio anche a nome dell'imprenditore che ho in linea su whatsapp benissimo io direi sono quasi le 6 5 minuti alle 6 di passare sì vorrei dire un'ultima cosa adesso io naturalmente fa sempre fede tutto quello che è scritto nel bando e tutto quello che si sono riportate anche nelle facche eccetera adesso anche per quest'ultima domanda io penso che insomma ci si possa rientrare chiederemo poi la dimostrazione che il sito sia il suo eccetera quindi più o meno naturalmente tutto quello che io dico non è che sia assolutamente vincolante però voglio dire in linea di massima a mio avviso è una spesa che sia benissimo mi chiedono di specificare dato che ho in linea anche il collega Giovanni Manzotti appunto della Camera di Ancona che per i servizi è importante che la piattaforma consente effettivamente la raccolta di ordini e l'acquisto B2B cioè che non sia una mera vetrina perché appunto l'intento della Camera non è quello di finanziare delle semplici vetrini digitali ecco quindi il collega di identificarlo magari per tutti insomma benissimo di nuovo grazie quindi dottor Tomassone direi di passare la parola alla collega Katia Badaloni che ha pronta una presentazione che in cui segnaleremo anche alcune specifiche piattaforme alcune fiere virtuali che abbiamo individuato così da scendere anche un po' più nel concreto rispetto a quelli che possono essere come si diceva i possibili contenuti di un progetto aziendale e anche per rispondere all'imprenditore che chiedeva prima di che tipo di piattaforma stiamo parlando per cui passo direttamente la parola alla collega Katia Badaloni che ringrazio prego Katia sì buonasera a tutti io sono Katia Badaloni per chi non mi conosce sono una consulente export della CNA Tecno Quality e mi occupo del servizio export box che è un servizio di affiancamento per lo sviluppo commerciale estero delle piccole e medie imprese vado a condividere una breve presentazione datemi conferma che sia visibile sì Katia è visibile sì tutto ok ok allora noi chiaramente facciamo diversi servizi di affiancamento all'export per diversi paesi tra cui paesi europei e paesi extra europei e le attività di affiancamento che facciamo sono svariate non mi soffermerò su tutti i servizi che facciamo perché credo che poi sono slide che verranno condivise dai coordinatori del webinar ma mi volevo più che altro soffermare su le attività che si possono integrare quindi le attività che vengono finanziate dal bando B2B Digital Markets che si possono integrare con le attività di sviluppo commerciale estero che forniamo con i nostri Temporary Manager come vedete allora secondo noi quindi secondo il modello di ExportVox i progetti export più efficaci sono quelli che integrano sia le competenze dei Temporary Manager che sono competenze più legate alla gestione delle trattative con il cliente con le competenze dei Digital Specialist ovvero di coloro che attraverso le piattaforme Digital riescono ad accorciare le distanze fra l'impresa e i mercati esteri e tra l'altro accelerano anche l'intercettazione di quelli che sono i clienti target sui mercati esteri questo perché chi ha esperienza di export sa bene che per vendere sui mercati esteri bisogna considerare due aspetti fondamentali ovvero il primo è quello di individuare chiaramente il maggior numero possibile di contatti esteri per piazzare degli ordini ma per far sì che la nostra presenza sia continuativa e duratura sui mercati esteri dobbiamo essere bravi a fidelizzare questi clienti quindi dobbiamo essere bravi anche a trovare clienti che siano affini il più possibile con le nostre aspettative e con i prodotti e i servizi che formiamo e quindi dobbiamo gestire tutte le attività che vanno sia dalla individuazione di questi contatti ma anche per quanto riguarda le trattative con il cliente per tutte le fasi fino al post vendita per questo motivo abbiamo impostato il nostro servizio basandoci anzitutto su un'analisi kick off dei requisiti aziendali quindi è un'analisi che viene fatta a monte con l'imprenditore per definire quali sono i prodotti i mercati gli strumenti e le competenze interne ed esterne necessarie per operare un processo di sviluppo commerciale estero da questa analisi elaboriamo un piano di sviluppo export che riguarda sia servizi offline che servizi online questo piano è tendenzialmente coordinato da temporary export manager che mettiamo a disposizione delle imprese che sono figure molto competenti sia per quanto riguarda la conoscenza dei mercati di sbocco sia per quanto riguarda il settore e il prodotto di riferimento il temporary export manager coordinerà anche le attività del digital specialist quindi i servizi digitali gli strumenti digitali che integreremo e che magari potremo finanziare proprio con il bando B2B digital markets andranno proprio ad essere utilizzati per raggiungere gli obiettivi strategici del nostro piano export che cosa quindi possiamo fare per le imprese possiamo fornire il temporary manager ma possiamo anche segnalarvi mettervi in contatto con i digital specialist marchigiani e grazie ad una collaborazione con il March Innovation Hub che è il digital hub della CNA Marche in cui CNA Marche è partner e vi aiutiamo quindi inoltre a scegliere quelle che sono le piattaforme multi brand più allineate alla strategia di sviluppo export che abbiamo elaborato insieme quindi quali sono questi strumenti digitali che possiamo inserire nel nostro piano export che sono finanziabili dal bando chiaramente come abbiamo già visto nella presentazione precedente sono tutte quelle piattaforme digitali integrate per il B2B ovvero quando creiamo delle attività di sviluppo commerciale possiamo scegliere diverse metodologie per approcciare i nostri clienti distributori buyer chiaramente parliamo sempre di B2B che possono essere possono riguardare sia attività di presenza field sul mercato quindi presenza fisica da parte dell'export manager ma anche attività collegate a servizi strumenti digitali come per esempio appunto la creazione di piattaforme integrate come vedete nelle piattaforme integrate possiamo inserire diverse tipologie di strumenti la creazione e la condivisione dei cataloghi i servizi fotografici video e shooting che vanno a implementare i contenuti delle piattaforme i sistemi di realtà aumentata e realtà virtuale per presentare i prodotti i sistemi integrati per la raccolta ordini da parte di buyer e distributori ma anche tutti quegli strumenti che ci permettono di integrare la piattaforma digitale con gli strumenti informatici che già l'azienda dispone quindi sia con il gestionale sia per esempio CRM e IRP poi gli altri strumenti sono quelli più specifici di settore o di prodotto quindi per quanto riguarda la modellazione la presentazione del prodotto i configuratori 3D oppure i sistemi di tracciabilità quindi relativi a per esempio la condivisione sicura delle nuove collezioni come può accadere per esempio per il sistema nuoda e sono strumenti come etichette intelligenti ad esempio che ci permettono di interagire con il cliente in modo virtuale poi ci sono come dicevamo prima delle piattaforme digitali per usufruire o alternative a quelle che sono le fiere fisiche vi ho riportato una serie di piattaforme degli esempi divisi per settore di quelle che sono le fiere virtuali attualmente attive per esempio qui vedete il MacFruit Digital che è la fiera virtuale della filiera ortofrutticola che si terrà dall'otto al 10 settembre 2020 questa era una fiera fisica che a causa del covid non è stato possibile realizzare e quindi è stata creata una piattaforma virtuale questa invece è un'alternativa per il settore del mobile come sapete il salone del mobile è stato annullato per quest'anno ma non è stato annullato il fuori salone perché verrà realizzato attraverso una piattaforma digitale con quattro nuovi format che vi permetteranno non solo di partecipare ad un evento lancio che si terrà dal 15 al 21 giugno ma anche di realizzare incontri B2B per tutto il mese di giugno e qui trovate i riferimenti che poi vi lasciamo per quanto riguarda il settore moda invece ho voluto aggiungere degli strumenti alternativi quelli che sono appunto i marketplace B2B che cosa sono i marketplace i marketplace sono quelle piattaforme diciamo digitali multi brand dove sono presenti quindi più brand di uno stesso settore che vi permettono di avere una vetrina aziendale quindi di promuovere i vostri prodotti e i vostri servizi qui per esempio vedete il marketplace di Premier Vision che è già attivo e dove potete creare una vostra vetrina e una vostra piattaforma digitale non autonoma indipendente quindi non sostenendo delle spese elevate ma appunto collegandovi ad una piattaforma dove sarete con altri vostri concorrenti ma questi strumenti cosa vi permettono di fare? Di avere un traffico molto più elevato con degli investimenti più bassi inferiori rispetto a quelli che richiederebbe creare una piattaforma e-commerce B2B proprietaria un altro marketplace B2B del settore moda è quello di Emilano Unica questo è relativo più che altro al settore dei tessili e dei accessori per la moda anche in questo caso collegandosi si può creare una vetrina e si possono promuovere e commercializzare i propri prodotti questa è l'ultima novità il PT Immagine ha creato la propria piattaforma marketplace PT Connect che da fine giugno 2020 sarà attiva quindi anche in questo caso potete connettervi a ptimmagine.com iscrivervi visualizzare quali sono le modalità di adesione e tutte queste piattaforme chiaramente hanno un costo di accesso e quindi possono essere rendicontate nel bando B2B Digital Markets vi lascio soltanto alcune informazioni relative alla nostra comunicazione tutti i mesi noi inviamo delle newsletter CNA Export Box con le quali vi informiamo sulle iniziative del mese e a breve dovrebbe uscire quella di giugno e chiaramente tutte le informazioni potete reperirle anche su Facebook e su link di nostre pagine social e chiaramente sul nostro sito internet www.cnatq.it questi sono i miei riferimenti e rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni sia per quanto riguarda il bando sia per quanto riguarda i servizi tecnologici benissimo ringraziamo Katia per l'esauriente presentazione immagino appunto come vi avevo anticipato che ha saputo offrire degli spunti effettivamente interessanti per quegli imprenditori ancora non del tutto sicuri su che cosa si potrebbe eventualmente finanziare con questo bando invece per tutti gli altri che è un progetto già ce l'hanno comunque potete rivolgervi naturalmente a Katia al nostro servizio Exportbox così come naturalmente per domande specifiche tecniche sul bando immagino che rimanga a disposizione il dottor Tomassone così come i colleghi delle sedi provinciali nello specifico ad esempio per la provincia di Ancona il già citato Giovanni Manzotti mi sembra di capire che non ci sono domande per ulteriori né per la collega Badaloni né per il dottor Tomassone se è così chiedo conferma siamo eventualmente pronti abbiamo veramente spaccato il minuto abbiamo cominciato alle 17.10 sono le 18.10 in 60 minuti abbiamo realizzato il nostro webinar chiede Lucia ti confermo non ci sono altre domande comunque le raccogliamo nel caso in cui non avessimo risposto a qualcuna e provvederemo eventualmente a rispondere via mail perfetto ringrazio Riccardo Silvi il nostro responsabile marketing che ha fatto da regia per questo seminario ringrazio tutti i partecipanti che sono rimasti con noi fino a quest'ora e naturalmente ringrazio i relatori la collega Katia Badaloni ma soprattutto il dottor Tomassone di nuovo per la disponibilità grazie a tutti e buona serata grazie a tutti